Scandale 19 febbraio Carnevale a scandale ma di fatto non si vede una maschera in giro Tutto è tutto un po' così, un po' spento, un po' vuoto Il signore col cagnolino Di ogni genere, da San Valentino a San Faustino, compreso Sanremo, eccoci qui per ambulanti, un po' weekend Li aspettiamo come ogni lunedì alle 11 per una nuova settimana insieme Senza tanti stanti, soltanto con tanta pazienza Viva l'Italia, con Valeria Pratti e Angelo Paiquini Da lunedì al giudizio dalle 11 alle 13 su RTL 125 Venito a fine